Scegli la parca, quella che vuoi, vada e fatta vedere la nostra telecamera. E non guarda, ok? La mettiamo qua e tagliamo. Ora le nostre due carte, i nostri jack, ci aiuteranno a trovare la carta scelta. Come? Basta metterne uno in cima, uno sul fondo, pensare intensamente alla tua carta e basta un gesto. Uno, due e tre. Hanno isolato una carta. Che carta vi hai scelto? Il tre di fiori. Guardala pure. Ed è esattamente il tre di fiori. Ma farò di più, voglio provare una cosa. Metti in mezzo ai due jack la tua carta e basta fare un gesto, un soffio e noi ci vediamo la notte in bianco, i 16 luglio. Ok?